Quest'anno, con il decreto rilancio, vengono confermati ecobonus e detrazioni fiscali per i lavori di risparmio energetico. Se cambi la tua vecchia caldaia con un nuovo modello a condensazione, potrai beneficiare delle detrazioni del 50% o del 65%. Anche i radiatori sono compresi e potrai approfittare dello sconto in fattura con Fondital. Sostituendo la caldaia con un modello in classe A, potrai ottenere il 50%, mentre se aggiungi oltre alla caldaia un sistema di termoregolazione, l'agevolazione sarà del 65%. Ma il risparmio non finisce qui. Infatti, grazie alla tecnologia a condensazione, è possibile ottenere un recupero del calore di condensazione del vapore acqueo, riducendo il consumo, con rendimenti superiori del 100% rispetto ai modelli tradizionali. Così potrai risparmiare anche mensilmente sulla bolletta e ridurre le emissioni a beneficio dell'ambiente. Come fare? Facile! Contattaci subito e troverai i nostri tecnici pronti a supportarti per trovare la soluzione perfetta per te. E per il Superbonus 110? Vai sul nostro sito www.fondital.it e trova tutte le info di cui hai bisogno. Scegli Fondital. 50 anni di successi made in Italy.